Che cosa? Abbiamo il fidanzato di Nikita Pelison che si mette contro la produzione del grande fratello VIP? Torna alla ribalta Valerio Trimiterra, ne avevamo già parlato qualche giorno fa. Sì, parliamo dell'ex fidanzato della concorrente della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e su questo non c'è dubbio. L'imprenditore era finito nell'occhio del ciclone dopo la pubblicazione di un video, un video ricevuto da Nikita e diffuso senza il suo consenso e ciò assolutamente non si fa. Per questo motivo alla concorrente si è detta molto infastidita, annunciato durante la diretta di voler prendere distanze dall'uomo e quindi andare a chiudere ogni tipo di contatto con lui, dicendo se io e lui abbiamo deciso che sarebbe rimasto tutto privato e che io sola avrei deciso se parlarne o meno, tu non appari. Piuttosto mandi una lettera, ma io qui dentro non ho mai detto il nome suo. Stavo valutando da settimane ed erano stati più di venti giorni belli, ma io adesso sono libera, partiamo da questo presupposto. Questo aveva detto lei e dopo queste parole il fidanzato di Nikita è tornato per puntare il dito contro la redazione del grande fratello e alcuni amici di cui si sarebbe fidato, dicendo questo è un video che mi ha regalato lei prima di entrare nella casa. Inaspettato ovviamente. Un video molto romantico, carico di amore, che il grande fratello Vip senza nessuna autorizzazione ha mostrato in tv facendo addirittura il mio nome. Questo ha detto, ma in realtà è stata una bella lamentela. Valerio Tremiterra è un fiume in piena e non ci sta a passare per quel che ha voluto sbandierare ai quattro venti la sua intimità con Nikita, dicendo in barba la privacy in quanto io non volevo nemmeno che Nikita pronunciasse il mio nome, ma in ogni caso mi sono sicuramente sbagliato io perché mi sono fidato di alcuni amici. Questo si legge nel video poi pubblicato da Dejanira Marzano. Visto che c'era il fidanzato di Nikita ha parlato anche delle modalità in cui GFVip ha diffuso il filmato dicendo il resto è proprio agli occhi della cronaca, gli hanno posto quel video in modo completamente sbagliato, successivamente hanno introdotto nella casa altri uomini e non so più che fare, non so più che dire ed è anche per questo motivo che ho deciso di non andare in trasmissione al di là dei miei grossi problemi di salute. E questo signori è stato tutto per la sua dichiarazione. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto di questo video, mi raccomando lasciate un bel pollice in su come supporto per questo canale, noi ci sentiremo alla prossima o sul canale o sulla pagina FB, mi raccomando.